No, pronostico secco, tu non è della Lazio, si vede lì, scritto Avelazio pronostico secco, Juventus-Barcellona, finale di Champions League Pronostico secco Cioè, risultato se, risultato 2 a 2 e supplementari 2 a 2 e supplementari Eh, supplementari, te lo vedono loro Ah beh, no, devi dare un vincitore E mica posso fare tutto io, dai Tu dici, fanno 2 a 2 e supplementari Mi dice 2 a 2 e vince la Juve 3 a 1 3 a 1? Al novantesimo E chi segna? Qua Vabbè, allora, o 2 a 2 o 3 a 1 O 2 a 2 supplementari o 3 a 1 per Juventus 3 gol fa la Juve? Ma il caldo è forte qui a Roma Se sono biondi, se scompiere, è ora di scompiarsi Ma forse è il caldo che cominciamo 3 gol al Barcellona, insomma Vabbè, comunque Quindi Tino, tifoso della Lazio, dice 3 gol per la Juventus e 1 per il Barcellona O altrimenti 2 a 2 supplementari e non dice chi vince Eh? Ok Oh, sono due di...